Volete mostrarci anche voi il vostro paese? È semplicissimo, basta prendere lo smartphone, lo posizionate in orizzontale, schiacciate rec e iniziate a raccontarci i vostri luoghi. Potete raccontarci il luogo dove vivete, il vostro quartiere o semplicemente un luogo che a voi sta a cuore e che per voi valga la pena raccontare e far conoscere. Oppure potete documentare un vostro viaggio. Inviate i vostri video a info-teleradiopadrepio.it Ogni mattina li vedremo nella rubrica Un giorno un viaggio, in onda su Padre Pio TV. Per qualsiasi informazione utilizzate sempre l'indirizzo email info-teleradiopadrepio.it Siamo pronti a viaggiare con voi!